Allora, quando l'ho fatto un sindaco mi ha detto che è ancora a Palermo, un lusaccio mi ha detto che domani alle quattro siamo convocati i GM, la produttoressa in gala mi ha detto che domani c'è questa riunione con le sindacate, insomma, tutti i loro... Ma quando io non andavo a fare... Ma quando io non andavo a fare... Ho parlato con il mio generale... E mi ha detto che noi iniziamo a votare... Novi, solamente quelli dei maggiori... E questo... Il mio generale... Non è importante, visto che è una parentesi... Mi ha detto che domani dovranno essere... Ho parlato con l'assessore Emanuele, con il dottor Emanuele... Domani sarà revocato il provvedimento di licenziamento... L'anno allevare completamente... Che ci sarà un'ulteriore somma che stanno vedendo di eventualmente... A integrare e aggiungere 200.000 euro... Che ha già versato al lato Campisi... Toglieranno i licenziamenti... Toglieranno i licenziamenti... La recettazione... La recettazione... Donano questi soldi... E dovranno... E dovranno... Assicurare... Che si leggeranno le domande... Si fanno così... Si fanno così... Si metteranno le domande... No... Domani... Scusate... Domani... Ma ci fanno quando prendiamo? No... Ma sto... Io ne fanno parlare male domani... Sì... C'è questo... C'è Martina e c'è più candidisti... No... Ma lì... Sarà la taula... Sarvi venire spuggare... O Puzzo... O Zun... La Puzzo... Spuggare... Avrei avvent tail... Avrei avventura incerto... Andi... 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 Ci siamo qui... Ci siamo noi... 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 Oh, ma ci ripassi... Ci pagino... Ci l'abbiamo più... Di luce non l'abbiamo più... Ma non chi ne ha l'è... Ci siamo del luce... E qua... Sì, è vero, è vero, è vero, è vero! Sì, è vero! Sì, è vero, è vero! Sì, è vero, è vero! Sì, è vero, è vero! Sì, 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 è vero! Sì! Sì, è vero! Sì, è vero! Sì! 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 Sì!